Ancora polemiche sulla realizzazione della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco nel progetto case di sassa al nucleo industriale. I cittadini interessati hanno presentato tramite l'avvocato Fausto Corti ricorso al TAR, impugnando la delibera 148 del 2021 con la quale il Comune cede al demanio l'area, costringendo le famiglie che abitano in Piano Case al trasferimento. Ci sono circa 30 famiglie che hanno partecipato al ricorso. Ovviamente non c'è opposizione in generale alla realizzazione del centro di formazione, e che si tratta comunque della necessità che l'individuazione dell'area avvenga attraverso un meccanismo che sia rispettoso del principio di uguaglianza dei cittadini e di parità. Ora il Comune ha un patrimonio immobiliare praticamente immenso, poteva scegliere fra qualche decina di localizzazioni, non solo il progetto case, ma i map, le caserme, l'ex aeroporto di Bagno. Ha scelto di sfrattare un gruppo di persone. Sarebbe stato corretto che il Comune avesse indicato in maniera preventiva quali erano i criteri per cui è stata scelta questa localizzazione, non altre. Per quale motivo questo sacrificio che viene imposto alla collettività debba ricadere sulle spalle degli abitanti del progetto case di Sassa. E soprattutto la cosa grave è che la scelta doveva essere resa esplicita, cosa che invece non risulta, nel senso che gli atti comunali si limitano a individuare questa come localizzazione ma non dicono le ragioni per cui è stata operata questa scelta. Parallelamente però ci saranno ulteriori azioni, ha precisato l'architetto Antonio Perrotti del coordinamento RP, perché avere la delocalizzazione della scuola non sia contrarre all'intervento in sé, ma all'area scelta che per il Comitato non è idonea in quanto alluvionale. Presenterò le ulteriori azioni in parallelo che andremo a fare presso l'autorità di Bacino, il Genio Civile, il Servizio Verifiche Ambientali della Regione, perché sono tutti enti che dovrebbero preventivamente intervenire, non consentire questo intervento devastante in una zona alluvionale non edificabile, quindi per la quale sarebbe necessaria una variante urbanistica che ancora non fanno. La battaglia va avanti, sarà serrata, nello stesso tempo interverremo presso il Ministero, perché il Ministero abbiamo visto che è preoccupato dei risvolti anche ecologico-ambientali, dei finanziamenti sia del PNRR ma anche dei fondi complementari come quello di cui parliamo.